state cercando un appartamento completamente ristrutturato in ottimo stato nelle finiture e negli impianti e con la possibilità di acquistarlo anche con gli arredi bene se così oggi vi proporrò un'ottima soluzione intanto mi presento sono domenico delle fontane della remax la polare group e oggi ci troviamo a mola di bari siamo a poca distanza dal centro ma anche una posizione strategica in uscita da mola quello che vedremo insieme è un appartamento con box andiamo a visionare grazie a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti bene abbiamo visto un appartamento pronto da subito è già disponibile e questa è un'ottima opportunità per chi stessa cercando casa in tempi stretti non vi resta che contattarmi per avere più informazioni o per visionarlo di persona a presto